Mi è mia cugina Jamaila postando foto di lei facendo piega a casa della gente No vabbè, si è chiusa il salone e adesso dice che vuole andare a domicilio perché di pomeriggio vuole stare con i bambini E ya credici? Eh sì vabbè ma Jamaila è solo parrucchiera, scusa eh Vuoi mettere il mio diploma a MUA? MUA? E sarebbe? MUA, make up artist, ignorante Oh Mara, non sono io che sono ignorante, sei tu che ti sei fatta l'upload di nascosto e non lo passi a nessuno, oh avvira, oh egoista, oh intransigente Oh Tania, mica intransigente vuol dire un'altra cosa? Cioè ma non lo vedi che sei troppo intransigente? Oh, dici che mi è costato il mio diploma a MUA? Ma mi sono concentrata, mi sono impegnata Dici che sono maestra in cerita brasiliana con lo zucchero che scongiura l'effetto gratugia e ritarda la ricrescita dei peli Ho depilato mezza cagliari e un quarto di oristano And now I am the queen of depilation Se te lo sto dicendo Oh Mara, la verità, anche io voglio allargare i miei orizzonti Mi son stancata di guardare solo mio nonno di lavoro Sai cosa mi son pensata? Voglio diventare total sitter Fermo il gioco? Total sitter E sarebbe... Ipotesi Esiste la baby sitter Bomba Esiste la cat sitter Fiamma Esiste l'anziano sitter Ti cagli? Esiste la dog sitter Ti nienci Io voglio essere tutte queste cose però racchiuse in un'unica persona che si va a delineare col nome di Total Sitter Tipo Wonder Woman Ti sto risolvendo storie brutte C'è oh Tania Che bomba di mestiere scusa eh Qual è il problema con tuo nonno? Sono incassinata L'altro giorno ho messo il pannolone al cane e ho dato le crocchette a nonno Oh Tania sei distratta scusa eh Devi spegnere uomini e donne ti devi esercitare E poi se nonno non mangia le crocchette Toma con le scatolette di umido So te lo sto dicendo So te lo sto dicendo